Avevano annunciato, immediatamente dopo la segnalazione fatta nel corso di un servizio giornalistico di Sicilia TV Notiziario, un immediato intervento, in tempi brevissimi, per attenzionare il problema. E così è stato. Questa mattina, Girgentiacco è stata in Vicolovita, a Favara, una traversa di via Vittorio Emanuele, a pochi passi da Ocarminu. Così è conosciuta dagli abitanti del posto Piazza Garibaldi. Si sta parlando della segnalazione fatta dal dottor Diego Caramazza, residente di Vicolovita, alle nostre telecamere. Un grosso foro, un buco, dal ciglio della strada si fa largo fin sotto un fabbricato. Foro che, teme il cittadino, oltre ai vari rischi di natura igienico-sanitaria, potrebbe nel tempo causare danni anche alla stabilità dell'immobile. Una situazione che, nonostante le segnalazioni al comune a Girgentiacque, spiegava Caramazza, andava avanti così da circa tre mesi. Appunto, dopo la segnalazione, è arrivata immediata la risposta dell'ente gestore del servizio idrico integrato. Operai questa mattina hanno effettuato un sopralluogo nella traversa di via Vittorio Emanuele, pronti a mettere mano per sistemare il tutto. Nessun intervento risolutivo è stato però programmato dalla società, in quanto è stato constatato come il problema riguarderebbe l'utente e quindi non di competenza di Girgentiacque. Già ieri, all'indomani del servizio giornalistico che attenzionava la situazione di Vicolovita, la cui strada risulta incurvata in prossimità del buco, Girgentiacque aveva in conto di effettuare il sopralluogo, ma, a causa del maltempo, l'intervento è stato rimandato a questa mattina. Nelle ultime ore, dunque, l'ispezione, ma il problema non risulta appunto competenza della società.